Il mondo del lavoro E poi questa fa Ma lei è la Sviba? Perché non sognano più Di fronte a questa realtà vilente Spesso si lasciano andare Ma per fortuna invece Qualche volta hanno voglia Di tornare a sognare E allora leccano le favole Che io gli racconto Che non sono sempre favole dolcissime Sono favole che rispecchiano la vita Ma hanno la capacità Queste mie storie Di prospettare Un orizzonte sereno Insomma Io sono una che preferisce vedere Il bicchiere mezzo pieno Piuttosto che mezzo volto È tristissima Ma per fortuna Ci sono ancora Zone E personaggi Dove L'industria italiana Prospera E questo accade Là dove Chi guida Queste imprese Ha la capacità Di La capacità E l'intelligenza Di adeguarsi A nuove strategie E Il senso Di Paese Che nel nostro paese Si va perdendo Ti Ti T Ti 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 Te Ti Grazie a tutti.